che l'amministratore del forum e i moderatori mi vogliano tanto bene è un fatto ormai assodato ma hanno voluto dimostrarmelo durante il mese di agosto mentre ero impegnato nelle mie passeggiate in montagna di cui peraltro ti ho dato ampia documentazione negli shorts inviandomi sul gruppo dei moderatori il video di uno youtuber americano molto bravo che si chiama tio joe ebbene in questo video mi sollecitavano il problema degli attacchi filess di cui se ti ricordi abbiamo parlato tempo fa in una delle nostre rassegne stampa ma che andremo sicuramente a rivedere nella giornata di oggi e in genere di tutti quei malware che utilizzano la power shell per minacciare il nostro computer ebbene a quanto pare ci sono delle manovre che vanno fatte quanto prima per mettere al sicuro i nostri computer da questo tipo di minacce sarebbe stupido lasciare aperte queste porte perché non compromette in alcun modo la funzionalità del computer il fatto di porvi rimedio ma d'altro canto ci espone a dei rischi veramente molto gravi il fatto di non farlo che cosa siano gli attacchi filess e come fare a porvi rimedio lo vediamo tra un attimo allora ti senti pronto iniziamo questa volta prima di cominciare ritengo che possa essere opportuno un piccolissimo preambolo tecnico e sì perché è opportuno capire che cosa sia la power shell e soprattutto che cosa siano questi malware che la vanno ad attaccare e in particolar modo i malware file less puoi immaginare power shell come l'evoluzione del prompt dms dos che cos'è il prompt dms dos è una finestra tramite la quale è possibile inviare comandi testuali cioè noi apriamo questa finestra digitiamo da tastiera un comando e questo viene eseguito sul nostro computer power shell è la naturale evoluzione del prompt dms dos che è stato reso più potente da quel nome power shell appunto il fatto tuttavia di essere stato reso più potente significa che sono ancora di più gli attacchi che possono essere inviati al nostro computer utilizzando per scopi malevoli la power shell uno dei tipi di malware che vanno ad attaccare la power shell sono appunto i malware file less particolarmente insidiosi perché sfuggono alla maggior parte delle rilevazioni degli antivirus e naturalmente anche degli anti malware per il semplice fatto che file less vuol dire senza file e gli antivirus e gli anti malware vanno prevalentemente ad analizzare i file questi comandi vanno ad agire direttamente su powershell e fanno fare al nostro computer cose che non vorremmo fare alle mie spalle vedi una serie di siti che appunto si occupano dei malware sulla powershell e questo ti fa capire che non si tratta di un problema che è venuto fuori recentemente ma recentemente sono state scoperte nuove falle ma soprattutto il modo per porvi rimedio e allora andiamo a rimediare ti anticipo già che le operazioni che andremo a fare oggi sono ben tre e che vanno bene sia per windows 10 che per windows 11 ma saranno diverse a seconda che tu abbia una home edition oppure una professional edition in ogni caso niente paura vedremo tutto quanto passo per passo e vedrai che al termine anche il tuo computer sarà sicurissimo partiamo subito con la prima delle tre modifiche che riguarda la versione di powershell devi sapere che al momento siamo alla 7.4 di powershell ma che sul 90 per cento dei computer è ancora installata la versione 2.0 una versione con molte vulnerabilità che va rimossa la rimozione non comporta nulla perché avremo sempre powershell nell'ultima versione presente sul nostro computer ma questa vecchia versione viene mantenuta solo per scopi di compatibilità ma ti garantisco che può essere rimossa senza alcun problema per farlo tutto quello che dovremo fare sarà aprire il pannello di controllo ci arriviamo di qui clicchiamo su esplora file andiamo qui in alto sulla frecciolina e scendiamo fino ad individuare appunto il pannello di controllo una volta aperto il pannello di controllo dovremo andare sulla sezione programmi in particolar modo a disinstallare un programma che si trova appunto sotto questo link attivazione o disattivazione delle funzionalità di windows una volta aperto vedrai che si aprirà una finestra dovremo scorrere fino in fondo a questa finestra dove troveremo finalmente windows powershell 2.0 ci basterà cliccare su questo segno di spunta per rimuoverlo e quindi cliccare sul pulsante ok per avviare la procedura di rimozione che durerà pochissimi secondi al termine powershell sarà disattivato nella sua versione 2.0 possiamo verificarlo andando di nuovo su attivazione o disattivazione delle funzionalità e vedremo che il segno di spunta da powershell 2.0 sarà scomparso clicchiamo su ok chiudiamo tutto quanto e abbiamo finito la prima operazione adesso che ci siamo sbarazzati della vecchia versione poco sicura di powershell dobbiamo dire alla nostra nuova versione di non accettare caramelle dagli sconosciuti anche se devo ammettere che le caramelle sono davvero molto buone comunque a parte questo discorso quello che faremo sarà di dire a powershell di non accettare comandi esterni dati da chiunque ma di accettare semplicemente comandi affidabili per farlo apriremo la stessa powershell clicchiamo quindi sulla bandierina di windows e nel menu che si aprirà in alto andremo a digitare proprio powershell prima di premere invio individuiamo il comando windows powershell questo qui che ti sto mostrando clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo la voce esegui come amministratore accettiamo di apportare modifiche al sistema che saranno che saranno le modifiche che noi stessi gli daremo e andremo a dare questo comando si chiama get meno execution policy non preoccuparti perché ti lascio tutto quanto anche in descrizione di questo video in modo che tu possa fare comodamente copia incolla come l'ho fatto io quindi diamo l'invio e vediamo che in questo caso la policy è unrestricted di che cosa stiamo parlando vuol dire che non ci sono policy di restrizione cosa sono le policy le policy sono delle regole che noi diamo al nostro computer come se fosse un bambino su quello che può e non può fare in questo caso non ci sono policy noi dobbiamo andare ad impostargli una policy per farlo gli daremo questo comando qui set execution policy remote signed che cosa vuol dire vuol dire che stiamo impostando set una policy cioè una regola di esecuzione sui programmi firmati da remoto cioè per farlo a breve su dei programmi abbastanza affidabili dico abbastanza affidabili perché potremmo optare anche per una sicurezza maggiore ma in questo caso ci precluderemo l'esecuzione di determinate operazioni cosa che noi non vogliamo diamo l'invio clicchiamo su s per confermare che vogliamo apportare questa modifica e clicchiamo di nuovo invio ecco fatto per accertarci che il computer abbia recepito la nostra modifica andremo a dare di nuovo il primo comando cioè ci faremo dire dal computer quali sono le nuove policy di esecuzione con il comando get execution policy clicchiamo su invio e vediamo che non è più unrestricted ma è diventato remote signed come gli abbiamo chiesto noi possiamo quindi chiudere la nostra finestra di ms dos o meglio di powershell in questo caso e devo dire che questo video mi sta ammazzando perché non ci sono pause e non riesco a fare merenda ma appena avrò finito sicuramente andrò a mangiare la mia barretta proteica quindi continuiamo e andiamo a fare la terza operazione ti premetto che questa operazione sarà diversa a seconda che tu abbia una versione professional oppure una versione home quella su cui sto lavorando è una versione home quindi partiremo da questa vedremo che cosa succederà sulle versioni home e che cosa succederà invece sulle versioni professional in modo tale che anche se tu non sai di che versione sei dotato potrai comunque andare avanti più che tranquillamente cosa abbiamo fatto finora abbiamo fatto fuori la vecchia versione dal nostro computer abbiamo detto al nostro computer che non deve accettare caramelle dagli sconosciuti quello che ci resta da fare adesso è sbattere fuori definitivamente i malintenzionati dal nostro computer e sì perché l'ultima possibilità che ha un malintenzionato è quella di ripristinare l'ultimo parametro che abbiamo appena modificato come era prima e quindi di consentire tramite powershell l'esecuzione di codice arbitrario per bloccare anche questa possibilità dobbiamo fare una policy di sistema cioè una regola che riguarda tutto il computer che non è modificabile dall'esterno ma per farlo ci occorre un programma che in teoria è presente solo sulle versioni professional proviamo quindi a lanciare questo comando per vedere se abbiamo una versione home oppure una versione professional clicchiamo la combinazione di tasti windows più r e si aprirà questa finestrella nella quale andremo a digitare gpedit.msc clicchiamo sul pulsante ok e a questo punto abbiamo due diverse possibilità la prima è che ci compaia una finestra di errore come questa e vorrà dire che il nostro sistema sarà un windows home edition la seconda invece che compaia una finestra come questa e in questo caso avremo una versione di windows professional restiamo un attimo sulla versione home edition e vediamo come procedere nel caso in cui tu abbia appunto questa versione qui ci basterà cliccare sul pulsante ok per chiudere la finestra di errore e sulla x per chiudere anche la finestra esegui andiamo ad aprire il nostro browser come facciamo di solito e andiamo come sempre a cercare nel motore di ricerca il dominio gentiluomo digitale effettuiamo la ricerca e scegliamo il primo risultato cioè quello relativo al sito gentiluomo digitale.it facciamoci clic su e in alto nella pagina che ci si apre andiamo a scegliere la voce downloads in questa pagina andremo un po più in basso a trovare il programma che si chiama policy plus facciamo un clic sul pulsante azzurro file download e il programma verrà scaricato sul nostro computer andiamo ad aprire il file possiamo chiudere il browser e a fare doppio clic su policy plus per avviare il programma accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo e ci troveremo in una pagina estremamente simile a quella già presente sulle versioni professional di windows ti premetto che questo è un programma sviluppato da un programmatore indipendente che replica sulle versioni home edition lo stesso group policy editor che manca ed è presente solo sulle versioni professional l'operazione che dovremo fare adesso è estremamente semplice andiamo a trascinare questa barra tutto in basso fino ad arrivare all'ultima voce quella relativa proprio a windows powershell facciamoci clic su andiamo ad ingrandire la finestra per vederla meglio e vediamo che qui abbiamo l'opzione relativa alla esecuzione degli script cioè quelli che servono ai malintenzionati per riuscire comunque a sovvertire l'ultimo comando facciamoci doppio clic sopra clicchiamo sulla voce disabilitato e quindi su applica e ok a questo punto ci basterà andare sulla voce file in alto a sinistra e a salvare le policy che abbiamo appena impostato ci si aprirà una finestra che ci avvisa che le policy sono state salvate con successo e le modifiche sono state applicate al registro clicchiamo su ok e possiamo chiudere il programma se abbiamo una versione home edition siamo a posto e vediamo invece che cosa succede su un windows professional nel momento in cui andiamo a premere la combinazione di tasti windows ed r e a scrivere la stessa frase cioè gpedit.msc quando clicchiamo su ok come ti ho mostrato si apre questa finestra quello che dovremo fare se abbiamo windows professional è andare su modelli amministrativi quindi su componenti di windows e scorrere fino in fondo fino ad arrivare a windows powershell su cui andremo a cliccare anche in questo caso troveremo la finestra relativa all'attivazione dell'esecuzione di script dove dovremo fare un doppio clic per scegliere nella finestra successiva che l'esecuzione di script venga disattivata a questo punto cliccheremo sul pulsante applica e successivamente sul pulsante ok e potremo chiudere la finestra anche su windows professional abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare sì lo so questa volta è stato un pochino più complesso del solito ma sono comunque felice di aver realizzato questo video per due motivi il primo è perché è veramente importante proteggere i nostri computer da queste minacce dei virus file e queste operazioni seppure relativamente banali sono in grado di offrirci un ragionevole livello di sicurezza laddove gli antivirus non possono proteggerci e il secondo è che comunque penso che dobbiamo iniziare anche un po ad evolverci come community e imparare tutti quanti insieme a fare anche cose un pochino più difficili a proposito della community ci tengo a ringraziare tantissimo sia andrea domenicucci che si è appena abbonato al canale benvenuto andrea e grazie per il tuo abbonamento e davide barraco molto presente nella community molto attivo che ha inviato un suo super grazie di cui a mia volta gli sono estremamente grato sempre a proposito della community ti suggerisco di andare periodicamente nel canale a visitare la sezione che si chiama appunto community perché ogni giorno sto cercando di pubblicare qualcosa di interessante e quindi sarebbe un peccato perdere il filo e non restare al passo dall'altro ti invito a visitare il forum sia se vuoi proporre un tuo video sia nel caso in cui tu abbia delle domande oppure anche delle considerazioni che vuoi condividere con altri membri della community e detto questo come sempre non resta che ringraziare anche te per aver guardato questo video per averlo fatto fino a questo punto cosa che come dico sempre ti fa onore e non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima